Ah, che belle queste avventure grafiche, che bello ritornare agli albori della pixel art, bello con questa risoluzione. Ah, che c'è lì, un'altra posizione, e un'altra parte di unico che è operazione. Uno down, un milion to go. Certo che, boss, ho trovato nulla delle parti che hai chiesto. Un'altra giornata all'interno in la città, e tutto ciò che prendo è un locker e alcune stupide conduzioni. Ah, non c'è tempo. Non c'è tempo, non c'è tempo, eh, non puoi fare niente. Non capito. Ah, boss? Crispin, get behind me. Who are you and what do you want? Power. I think he wants the power core, boss. Stop right there. This ship belongs to me. Forfeit. Enemy. Wonder. I don't think he's too keen on private property. Get away from the power core. Forfeit. Come on. 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 Boss Boss Horatio Come on Horatio wake up Horatio You're okay What happened Well big ugly threw you out of the ship And then he said plunder Again And then he left with our power core Bassad Yep How much charge have you got Ten percent You I'll be fine We just need to get the emergency generator up and running I told you it needed to be repaired Or we could just go to Metropole City of glass and light Free energy for one and all Don't believe everything you hear Metropole is trouble But if you want to go You've got free will in a maglev unit With that guilt subroutine you put in me I wouldn't even make it halfway Actually with a ten percent charge You wouldn't even get that far So I suggest we get the generator working You and your projects Man built us to build Crispin Now come on Perfetto Crispin Non so cosa sia sta roba Ma nel dubbio facciamo un salvataggino Così Possiamo Possiamo proseguire I don't know I don't know I don't know I don't know It's a segment of Gordium electrical I can't just scoop it up There's supposed to be a power bearing conduit between this socket and the ship But I never got around to putting one together Now who's the procrastinator? Dove l'ha messo l'oggetto? I'll need at least five pieces to be able to build a conduit long enough to run the generator to the unit Uh... Crispin Uh... Maybe No wonder the generator isn't working At least the putty is still good It's not going to do anything until the ship Okay It's the Unique's tag Without it I'd have never known the ship's name Apparently building a giant airship doesn't require proper spelling Apparently not It's the Unique's tag A sturdy cable Prendila Allora Praticamente dobbiamo aggirarci In questa zona Non possiamo fare nient'altro It's a data cable Not a power cable Ehm... The cable is far too long to be useful It's a disk è dubbio allora quindi non possiamo farci altri giri proviamo a salire qua perfetto ce ne sono sparsi un po' in giro magari puoi lanciare una corda anche se è un cavo d'ati è un cavo d'ati però ok no togli quello non ti infila all'interno perché è tutto buio mi pare giusto allora per adesso ne abbiamo due di questi due quanti ce ne vogliono vediamo se un duo ah cinque cinque tocchi e dove mai ne andiamo a recuperare questi cinque tocchi saranno in giro saranno in giro da qualche parte assad ah abbiamo le mappe qua figo mentre questa questo è il mappone allora allora dov'è che possiamo trovare riuscire a trovare eh niente di utile da queste parti però non possiamo andare oltre siamo rilegati a queste due zone ma non posso usare l'altro personaggio muovere perché per esempio qua qua potrebbero andare in potrebbero andare in acqua ci sarà qualche modo per utilizzare l'altro personaggio eh tra l'altro qua ho visto che c'è anche il commentario degli sviluppatori c'è anche il Ciao, sono James Panas. Ehi, questo è Victor Floog, da One One Studios, co-creator di Primordia. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Possiamo utilizzare questa lanternina? Per fare cosa? Totalmente uniluminato. Molto buio all'interno. Vabbè, comunque è un'altra avventura grafica davvero molto interessante però anche molto breve. Quindi la versione dimostrativa comprende questo. Se no poi facciamo una roba completa e non è il caso. Almeno non è il caso perché... Dovete assolutamente giocarlo con le vostre manine che è sempre meglio. Saluti. Iiiiiiiiiiiiiiii No. No.